Egregio Presidente, gentili delegati, graditi ospiti. Mi pregio di fare solo alcune brevi considerazioni, partendo da una breve analisi storica. In questi ultimi anni, nella Repubblica di San Marino, la crescita economica, come spesso accade in piccole realtà, è avvenuta in modo selvaggio, non programmato e talvolta non sufficientemente regolamentato. Questo si è trasformato nel tempo in un fenomeno di speculazioni di vario genere, che talvolta hanno generato situazioni di complessità tale che sono sfuggite di mano al che aveva la responsabilità politica e di governo. Difatti, la classe politica dell'epoca non ha visto e non ha voluto vedere, il crearsi di situazioni anomale. Il risultato finale è noto a tutti ed ha portato lentamente negli anni a problemi economici e a frizioni politiche che sono scaturite nel raffreddamento dei rapporti tra Italia e San Marino. Scusate, chiedo un po' di attenzione dalla Sala. Grazie. A tutto ciò si deve sommare una crisi economico-finanziaria internazionale che, pur essendo stata generata da fenomeni di speculazione finanziaria, ha comunque una profonda matrice culturale. Non dimentichiamoci che oggi siamo in un'era caratterizzata da processi di globalizzazione e dalla spasmotica ricerca dello sfruttamento di ogni tipo di risorsa. Questa corsa sfrenata all'ottimizzazione dell'impiego di ogni risorsa ha pertanto innescato nelle famiglie una nuova cultura, una vana e ossensiva ricerca di salvare il livello di tenore di vita raggiunto in questi anni, che se da una parte non è un atteggiamento da biasimare, dall'altra spesso è una forzatura rispetto alle reali capacità di reddito. Questo processo culturale è stato causa di vere tensioni sociali che hanno caratterizzato i singoli e la società civile nel suo compresso. L'evolversi di questo modello sociale è inciso anche sulle relazioni. Siamo all'interno di una società mediatica in cui spesso gli accadimenti vengono sentenziati prima dei processi veri e propri. A completare lo scenario da un punto di vista politico è stato il moltiplicarsi di movimenti e partiti che in taluni casi sono nati spinti da una naturale reazione alla disaffezione verso la politica da parte dei giovani e in altri casi sono riproporsi del vecchio sotto forma del nuovo. In questo moderno contesto aspetti quali solidarietà, sviluppo sostenibile e pluralismo vengono spesso dimenticati e sovente l'uomo della strada che rischia di pagare un prezzo molto alto. È in atto una vera e propria crisi di valori. Il PDCS, partito di maggioranza relativo, ha capito immediatamente la gravità dello scenario e la drammaticità del momento storico e ha sentito la responsabilità del suo ruolo nel Paese e nella società civile. Pertanto il Governo si è adoperato a risolvere le varie emergenze problematiche economico-sociali. Il Partito ha cercato oltremodo di arginare personalismi, superare giochi interni e mediare con gli alleati. Talvolta il PDCS, attraverso il gruppo consigliare e il Governo, ha dovuto prendere decisioni impopolari per far fronte alla difficoltà del Paese e mantenere gli equilibri politici e sociali. Tutto questo va bene, ma questo modo di procedere, quasi affannoso, qualche volta è andato a scapito della partecipazione della base alla decisione del Partito. La ragione di questa conseguenza è da ricercarsi nella mancanza di tempo. Difatti il trovarsi in una continua situazione di emergenza ha portato spesso i vertici del Partito a prendere decisioni in tempi rapidi, trascurando di informare e chiedere idee alla base. Questo comunque non può e non deve essere il metodo di lavoro, quantomeno non in maniera sistematica. L'emergenza o il tempo non possono essere l'alibi che lo giustificano. In un percorso così travagliato sarebbe stato più auspicabile una maggiore coesione interna e coinvolgimento delle sezioni. Non si deve mai dimenticare che la condivisione di un progetto politico passa attraverso il coinvolgimento e la partecipazione e non può prescindere da questi due elementi. Poter dare al Partito il proprio contributo o essere ascoltato dà la sensazione di essere tenuto in considerazione, di essere importante. Avere l'opportunità di esprimersi comporta anche la possibilità di essere apprezzato, introducendo anche il concetto di meritocrazia. E lo stesso Professor Zamagni durante un suo intervento ha sottolineato la differenza tra collaborazione e cooperazione, che consiste in entrambi i casi nello svolgere un'attività insieme, ma che si differenzia dalla presenza o meno della condivisione dell'obiettivo. Con estremo piacere ho ascoltato la relazione iniziale del Segretario, specialmente quando dice che nel caso sia riconfermato, si è ripromesso con forte determinazione di colmare questo aspetto. Mi auguro comunque che il nuovo Segretario, chiunque esso sia, volga una maggiore attenzione al coinvolgimento e alla comunicazione. Coinvolgimento e comunicazione sono strettamente correlati, in quanto un soggetto che partecipa attivamente ai processi decisionali accresce il senso di soddisfazione personale e contemporaneamente ha una migliore comprensione e condivisione del progetto politico. Di conseguenza effettuano più efficace comunicazione nella società civile, riportando una corretta percezione delle scelte politiche. Occorre proseguire in questo percorso virtuoso all'insegno dell'unità e della coesione. Uno degli elementi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa a cui si ispira il partito è appunto la ricerca dell'unità in contraposizione a personalismi e particolarismi. È in questo modo che si inizia a fare cultura e quindi a combattere questa crisi di valori. Oggi siamo a eleggere colui che dovrà guidare il partito nei prossimi anni e avrà un compito importante perché dovrà coniugare i seguenti aspetti. In primo luogo una capacità di condurre e gestire il partito caratterizzata dalla fermezza e dalla risoluzione atta di imprimere unitarietà di coordinamento e indirizzo sull'azione del partito e quindi del governo. Il partito non si deve appiattire sul governo ma ne determina l'indirizzo e garantisce l'unità della sua azione. In secondo luogo una correttezza morale e onestà intellettuale nell'interpretare, analizzare le problematiche del Paese ed elaborare risposte anche attraverso una sintesi del pensiero politico interno al partito e con gli alleati di governo. Da ultimo una forte attitudine al coinvolgimento e partecipazione di tutti gli organi ai livelli del partito al fine di ottimizzare le risorse presenti nella democrazia cristiana e al tempo stesso accrescere il senso di appartenenza dei suoi militanti. Sono certo che questo percorso di rinnovamento iniziato da qualche anno all'interno dell'Odc, che deve passare dall'etica sociale alla rivalutazione dei giovani, possa proseguire e potenziarsi fino a diventare lo strumento di attuazione del processo di trasparenza nella società civile e di sviluppo del sistema economico. Mi auspico pertanto che si prosegua su questa strada, evitando scogliatoie e garantendo la linea che è stata tracciata e al tempo stesso migliorando quegli aspetti che sono rimasti indietro, anche se questo comporta rinunce a ambizioni personali. In altre parole, prima ancora di proseguire una politica del fare, occorre conseguire una politica dell'essere. Grazie.